ecco ragazzi abbiamo trovato l'avversario a 197 trofei del torneo naturalmente perché è da ricordarlo e noi ragazzi inizieremo con il nostro esattore e lui vediamo che tipo è perché non dobbiamo comunque esaminare bene le arene ecco questo qua è un tipo molto forte credo perché comunque ha il minatore che è una leggendaria poi ha il moschettiere e il mago di ghiaccio quindi ha due leggendari questo ragazzi molto probabilmente è una partita persa questo qua è davvero molto forte sarà molto molto difficile vincerci e lui ci butta la veleno sull'estrattore che però uno dell'esir ce lo dà io ragazzi ora aspetterai il golem anche se so di non doverlo fare perché non ho l'estrattore però è l'unico modo perché questo qui no vabbè no meglio buttare l'estrattore buttiamo l'estrattore e il mini pecca per difenderci dal suo moschettiere lui mi butta cavolo quanto mi dà fastidio dai mini pecca dai il colpo grande mi butta le guardie dai mini pecca ha dato due colpi ragazzi questo qua è un sogno l'estrattore lì resta ancora in vita ragazzi e ci abbiamo una visualizzazione allora intanto io inizierei il golem per sbloccare un po' questa partita anche se è abbastanza sbloccata però dobbiamo cercare ecco lui ci butta il gigante al set mamma mia ragazzi siamo messi molto male molto male lo stregone ci butta fanno il tifo per lui eh no ragazzi è una brutta è una brutta brutta è una brutta è una brutta cosa però si potrebbe facilmente trasformare in bella attenzione il golem li ha distratti il golem li ha distratti lì c'è il minatore che mi sta attaccando ma io punto alla stella quindi lo lascio stare e attacco ragazzi la stella è fatta e dai ragazzi ora in difesa ragazzi con chi stiamo vincendo però io attacco dai sto dicendo ora in difesa ma ora attacco perché così lui si dovrà per forza difendere non mi può attaccare e se non mi attacca non potrà vincere naturalmente perfetto ragazzi mamma mia che danni che cosa gli stiamo facendo che cosa gli stiamo facendo ditemelo voi perché non capisco capito quando non capisco davvero non capisco cosa gli stiamo facendo ragazzi gli stiamo facendo vedere le stelle gli stiamo facendo vedere attenzione no attenzione no dove ho messo la scarica raga un po' che mi sono sconcentrato no 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 50 oddio non ci credo 50 3 2 1 che partita ragazzi che partita non ci posso credere non ci posso credere 1 a 0 ragazzi e siamo primi siamo primi nel torneo se restiamo così i primi trovano sempre il leggendario sicuro al 100% perché c'è un po' dove trovi il leggendario al 100% quindi dobbiamo contro un arena 9 abbiamo vinto ragazzi no ragazzi non ci credo era arena 9 lui no raga non ci posso credere screenshot ragazzi questo video deve raggiungere i 100.000 like no ragazzi ho vinto contro una nera contro un arena 9 e sono primo nel torneo 100.000 like ragazzi 100.000 like mi raccomando ragazzi per questo video è tutto spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando i 100.000 like e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto ciao ciao